Allora, allora, all'urra, all'urra, partiamo con una premessa, perché se no poi la gente mi rinfaccia le cose e me le rinfaccerà comunque, perché nessuno avrà ascoltato questa premessa, che durerà più o meno un minuto. La situazione è semplice, ragazzi, ogni volta che faccio una predizione è una teoria, un'opinione, non vuol dire che io la propongo come legge, non vuol dire che io la propongo come Ah, io ho ragione assoluta e dovete fare così. No, stiamo giocando insieme, ci divertiamo insieme, vi chiedo le vostre opinioni, ci confrontiamo alle opinioni e nel momento in cui uno sbaglia un'opinione Non saltiamo addosso a quella persona e la prendiamo a insulti, ci comportiamo come persone civili, lo so che viene difficile a molti, però ci si comporta come persone civili Possiamo fare questo sforzo? Tutti insieme? Bene, quindi io adesso dirò le mie opinioni su quello che sarà il P-CAM, voi prenderete i vostri neuroni, vi sforzerete e eviteremo di fare brutte cose E questo serve come avvertimento soltanto a quelli che fanno Più o meno così, no, almeno così me li immagino nella mia testa perché non posso immaginarmi qualcuno che possa essere così infantile e stupido da dovermi rinfacciare una cosa e prendermi insulti per un fanta-lol Beh, brividi Allora, cominciamo, cominciamo, il primo match che andremo a dire, determinare quale sarà il vincitore Per quanto mi siano piaciuti i Misfits con il loro comeback e sono felicissimo per il loro comeback I SKT hanno giusto quei tre mondiali e quella madonna di esperienza Hanno avuto buone performance, un po' scherchiolanti, ma mi dispiace, RIP, RIP Misfits È stato bello, vi avrei visto contro i Royal Never Give Up Non contro i SKT Passiamo al secondo match, Royal Never Give Up contro Fanatic Royal Never Give Up contro Fanatic, anche qua I Royal Never Give Up hanno avuto un vantaggio di un girone che non era troppo difficile per loro Io li ho sottovaluta di molto Invece hanno brutalmente stompato il mondo E, sarò sincero, Fanatic, Royal Never Give Up Non lo so, io mi fido degli asiatici, ho fiducia in loro almeno sotto questo punto di vista Almeno sotto questo punto di vista Poi lasciamo perdere il resto Longzu contro Samsung Galaxy Ragazzi Unlucky A me dispiace per i Samsung, erano carini da guardare, però I Longzu sono super puliti, hanno letteralmente i top player più forti del mondo E lo sto esagerando Una bot lane che è tipo Miracoli la bot lane No, 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 no Cioè, i Samsung Galaxy se riescono a vincere contro i Longzu Veramente comincia a stupirmi dell'universo Il Team WE contro i Cloud9 Allora io vi ricordo che il Team WE ha perso dai TSM Un game Seconda settimana hanno giocato decisamente meglio Ma hanno perso dai TSM Ho come questa sensazione Per quanto i Cloud9 siano passati con un 3-3 Ho come la sensazione che I WE riesciranno a cioccare nel momento peggiore del mondiale E vedremo i Cloud9 in semifinali Ho questa sensazione dentro il mio corpo E non lo dico per fiducia ai Cloud9 Perché i Cloud9 per me sono tipo Ma siete seri, raga? Ho come questa Questo dubbio nella testa Che proprio Vedo i WE e dico Ma quelli sono gli stronzi che hanno perso i TSM in 30 minuti I TSM che sono usciti dai mondiali Cioè, capite? È quello che mi manda i tilt Non posso non pensarci Andiamo avanti Andiamo avanti Quindi Semifinali SKT contro Royal Never Give Up Già questo è un pochino più tosta Perché Sono belli cattivi come team questi qua Non sono niente da sottovalutare assolutamente Ma se dovessi dare il favore ad uno dei due Decisamente Rimarrei fedele agli SKT Decisamente E qua Questa sarà l'unica volta che l'NA proverà a dire Non lo so Li vedo, li guardo e dico Nope 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 Sono i Longzoo, ragazzo Cioè, questi giocano super pulito Come puoi avere aspettative nei confronti dei Cloud9? Anche io che ho avuto aspettative nei confronti di TSM Non dovrei parlare molto Ma il discorso è un altro Longzoo contro Cloud9 No Cioè Se mettessi che i Cloud9 vincolano Allora devi mettere che i Fanatic vincolano dai Royal Never Give Up E i Misfits che vincono dagli SKT Ok, se succede Cazzo Meglio per loro E io sono felice se Se mi dimostrano che hanno torto E sarò felicissimo di accettare Di avere torto Se tipo i Fanatic vanno sopra di Royal Never Give Up O i Misfits superano gli SKT Che madonna, regà Sapete le meme Le meme che partono Se si scopre Che, cioè, succede Che i Misfits Magari con un 3-2 3 win e 2 lose Riescono a batterli SKT A buttarli fuori dai mondiali Ai quarti di finale Cioè, sarebbe una meme gigante Sarebbe troppo bello Per essere vero La cosa è che Una persona Toglie un attimo Quelle che sono le sue opinioni personali Toglie un attimo quelle che sono le sue preferenze personali Si fa due conti E dice Vediamo Uno dei migliori team coreani al mondo Ha vinto tre mondiali Hanno dei coach di Cristo Hanno una line-up perfetta Un pochino in fragilini ultimamente Quindi forse non vincono nel mondiale Ma direi che contro un team Che è la prima volta che arriva in mondiali Che sì, ok È arrivato fino ai quarti finale E potrebbe essere Una bellissima accelerantola Sarà uno stupro Per forza di cose Poi vediamo, ad esempio, di nuovo Il match up Never give up E Fanatic Il miglior team cinese Contro i Fanatic Che prima settimana hanno giocato malissimo Con Soaz che sembrava un super minion E la seconda settimana hanno giocato di Cristo La seconda settimana Poco è un cazzo da dire La seconda settimana I Fanatic hanno giocato di Cristo Hanno giocato bellissimo I real never give up Tutti i game Erano puliti perfetti Come può una persona aspettarsi Di dare una chance Ai Fanatic Una persona appassionata di Fanatic Gli dirà Guarda, si passa i Fanatic Dai, forza, su Un fanboy Un fanboy Però My mind is telling me No But my body No Non passano i Fanatic Stesso discorso qua Longzu e Samsung Galaxy No No E i Longzu sono troppo superiore Qui è l'unica vera incognita Cloud9 contro i WWE Che io Magari Sbaglio a mettere i Cloud9 Perché cioccano malissimo I mondiali Di solito Sono usciti dal group stage Dici Beh, dai Bravi Bravi I WWE hanno perso però dei TSM Hanno giocato pulito Entrambe le settimane Ma hanno perso dei TSM Cosa succederà mai Se fossi un uomo saggio Metterei così Probabilmente questo è il risultato effettivo Probabilmente Non c'è un Non sono sicuro di nessuno E probabilmente poi il mondiale lo vincono sti stronzi Perché stanno giocando da Dio I Longzu Secondo me non perdono Non droppano un game Forse lo droppano qua E qua Cioè contro i Samsung E contro gli SKT Lo droppano un game Oh Se la situazione è diversa Io sono felice e contento ragazzi Perché vuol dire che Le cose non sono così prevedibili Di 32 analisi della Riot Due persone dicevano che i Misfits sarebbero passati Due Su 32 Ora Sarò io stronzo Ma questo è un segno positivo Ok che nessuno dava fiducia ai Misfits Ma è una cosa positiva Il fatto che siano riusciti a fare Non so come Miracolo Però ci sono riusciti Sono riusciti a uscire dal group stage Arrivare fino ai quarti finali mondiali Al loro primo anno Se riescono ad arrivare alle semifinali Questi si Tipo Cagano soldi Ovunque L'anno prossimo Perché avranno la gente Che letteralmente Li spompina Per sponsorizzarli Già ora Cazzo Se fossi uno sponsor Direi Minchia Questi sono arrivati I quarti di finale mondiali E sono un team europeo Chi cazzo sono Che me ne incula Io li riempio di soldi Se arrivano alle semifinali Esplode il cervello all'Europa Se arrivano alle finali Tipo Esplode il cervello al mondo Sarebbe Sarebbe da un bel po' Che non si vede Cazzo Da quant'è che non si vede una finale Con un europeo È un bel po' Porca troia Minchia Sarebbe fichissimo E comunque Signori Io direi che chiudiamo qua questo video Probabilmente ho torto su ognuna di queste cose O su almeno un paio di queste cose Quasi sicuramente Però Siate umani Siate sportivi Accendete il cervello Per quelli che Gli verrà la voglia Il fremito Il senso di Devo dire All'apo che ha torto Trovatelo dentro di voi L'interruttore Pensate un attimo E dite Ma davvero Per un cazzo di Giochino Di merda Che in cui Indovino Chi è il vincitore Ho il diritto Di insultare una persona Probabilmente qualcuno Risponderà sì E quella persona È una testa di cazzo Signori Ci vediamo al prossimo video Ciao